Ciao a tutti, sono Simone di Brickenhouse, l'attestata dedicata ai Lego di Lega Nerd e oggi vi parlo di un leak appena uscito fresco fresco che va a confermare alcune voci che avevamo sentito nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, relativo a un nuovo set dedicato alla serie tv di Friends. Ne avevamo parlato altre volte, erano emerse alcune voci che poi erano state un po' disattese con l'uscita dei portachiavi con alcune minifigure della serie di Friends. Alcune settimane fa infatti erano emerse le prime voci relative ad un nuovo set, a un qualcosa di nuovo legato alla serie Friends, perché vi ricordo che nel 2019 era uscito il set Lego Ideas dedicato appunto al Central Pair, che era un po' il punto focale di tutta la serie con il divano al centro della stanza ad opera del progettista francese Aymeric, che abbiamo poi anche incontrato a Scherbeck tra l'altro quell'anno. Il set come potete vedere qui è ancora disponibile sul sito Lego e 69,99 euro è il suo costo, ed è un set classico un po' sullo stile di Big Bang Theory, ovvero una rappresentazione di un set cinematografico con all'interno le minifigure. Era composto da 1070 pezzi e il codice è 21319. Come si vede, anche la tecnica costruttiva è molto interessante, perché c'è un angolo di tutto il set che è traslato rispetto al set centrale e questo sicuramente farà piacere a tutti i costruttori che vogliono sempre cimentarsi in qualcosa di nuovo. Addirittura è possibile tirar fuori il salottino centrale per farne una piccola costruzione da tenere a parte, magari sulla scrivania, sul lavoro. I rumor sentiti fino ad oggi erano stati un po' disattesi dal fatto che erano effettivamente emerse alcune minifigure in formato portachiave, la classica, il classico portachiave con la minifigure attaccata in fondo, con i personaggi della serie Friends, per cui era andato un po' tutto nel dimenticatoio, diciamo così, e non se ne era più parlato. Invece il leak di oggi ci dà qualche notizia in più e come ben sappiamo questi leak qui alla fine un fondo di verità ce l'hanno sempre, se non del tutto. Ecco qui che possiamo quindi vedere quali sono alcuni dati del nuovo set che dovrebbe uscire stando appunto a questo leak, il primo di giugno, il 19 in anteprima per i clienti VIP, classico delle due settimane anticipate per i clienti VIP, composto da non si sa quanti pezzi e avrà un costo, suggerito al pubblico, di 149,99 dollari. Il set Lego non farà parte della linea Lego Ideas, ma avrà il codice dei classici creator expert che attualmente stanno un po' diventando i 18 più, quindi per gli adulti, 10,292, e si chiamerà Monica and Rachel's Apartment, quindi sarà l'appartamento di Monica e Rachel. Quindi presumibilmente avremmo di nuovo un set cinematografico aperto da un lato, chiuso dall'altro, senza probabilmente il tetto. Questo è l'ultimo leak fuoriuscito proprio negli ultimi minuti. Se vi è piaciuto il video fate mi piace qui sotto, il bel pollicione su, iscrivetevi al canale così da poter avere tutte le notizie aggiornate riguardo appunto al mondo Lego.